Se pensi che per essere felice devi raggiungere quel peso che hai in mente, fermati e ascolta questo video, perché la mia esperienza può esserti di aiuto. Ciao, sono Nadia Zaros, sono psicologa e trainer di Mindful Eating e Intuitive Eating. Guido le persone a creare un rapporto di benessere e di equilibrio con il cibo e il proprio corpo. E se anche tu desideri ritrovare serenità nella tua alimentazione e nel rapporto con te stesso o te stesso, ti invito a iscriverti a questo canale. Cliccando sul bottone che trovi qui sotto e mi raccomando, attiva anche le notifiche così non perderai nessuno dei prossimi video che verranno pubblicati. Purtroppo tutti i giorni siamo costantemente esposti a messaggi e immagini che ci dicono che per essere felici, per stare bene nel proprio corpo, dobbiamo avere un certo fisico. Anch'io sono caduta in questo errore. Ricordo benissimo quando ho intrapreso l'ennesima dieta per raggiungere quel mio obiettivo ben chiaro dei 58 kg. Ero convinta che raggiungendo quel peso mi sarei sentita finalmente bene nel mio corpo. Un corpo che facevo fatica ad accettare per i cambiamenti che erano avvenuti con lo sviluppo, con l'inevitabile crescita. Ricordo benissimo anche quando ho raggiunto quel peso, anzi, ero arrivata addirittura a scendere sotto quel peso. Ricordo benissimo quanto fossi felice, entusiasta, sia perché tutti i sacrifici che avevo portato avanti per lungo tempo erano stati ripagati, ma anche perché finalmente è stata felice del mio corpo e di me stessa. Purtroppo però le cose sono andate diversamente da come credevo. Certo, ero davvero felice all'inizio e effettivamente guardandomi allo specchio mi piacevo di più. I vestiti mi stavano meglio, mi sentivo anche più leggera, molto più scattante, ma anche più energica a livello proprio fisico. Purtroppo però questa felicità è durata davvero poco, perché in fondo, in fondo, quel corpo nuovo, quel nuovo peso non aveva portato quei cambiamenti che speravo. Quando mi guardavo allo specchio, ahimè, continuavo a vedere qualcosa che non mi piaceva. Continuavo a vedere dei difetti o quelli che io ritenevo essere dei difetti. Vedevo la cellulite, vedevo delle smagliature, le mie caviglie erano ancora grosse e in fondo di certo non potevano ridursi attraverso una dieta. Le mie gambe, nonostante fossero magre, non erano magre come io le avrei volute. Insomma, continuavo ancora ad essere insoddisfatta del mio corpo e di me stessa. Già, perché questa insoddisfazione non riguardava solo il mio aspetto fisico, ma riguardava anche aspetti interni. Continuavo a essere insicura nelle relazioni, continuavo a non avere quella fiducia, quella sicurezza in me che io tanto desideravo. Forse potresti pensare che questo sia stato un enorme fallimento per me, ma in realtà questo evento è stata la mia rinascita. Perché in quel momento ho preso consapevolezza di alcuni aspetti fondamentali che hanno indirizzato le mie scelte da lì in poi. Scelte che mi hanno portato a raggiungere il mio equilibrio e il mio benessere interno ed esterno. La prima cosa importante che ho compreso è che le diete non sono la strada per ritrovare benessere con noi stessi. Non solo perché mentre le facciamo siamo profondamente tristi, depressi, ci priviamo di tutto ciò che ci fa piacere e ci fa stare bene. Dal cibo alle relazioni. Sì perché ci vietiamo i cibi che amiamo e questo non fa che frustrarci. Sì perché per seguire regole della dieta non facciamo altro che privarci delle opportunità sociali dove il cibo è un elemento conviviale fondamentale, ma che ovviamente per chi è a dieta diventa un problema da gestire. Sì perché anche se raggiungiamo quel peso, poi ahimè tutti quei chili che abbiamo perso ritornano dopo breve tempo. E perché a forza di fare dieta finiamo per valutare noi stessi in base a quanto mangiamo, a cosa mangiamo e se riusciamo a seguire quelle regole alimentari. E di certo questo non può aiutarci ad aumentare, a crescere la nostra autostima. La seconda cosa che ho completo da questa esperienza è che stare bene o male con il proprio corpo non dipende dall'aspetto esteriore, non dipende da come è fatto il nostro corpo, non dipende da quanto pesiamo o da che taglia di vestiti abbiamo, ma dipende dall'immagine corporea che abbiamo e cioè da come percepiamo, da come vediamo il nostro corpo. L'immagine corporea è il frutto delle credenze che abbiamo sul nostro corpo, è il frutto dei pensieri che facciamo ogni volta che guardiamo il nostro corpo, è l'insieme delle percezioni, delle sensazioni, delle emozioni, dei vissuti che abbiamo nei confronti del nostro corpo. Per questo motivo se anche raggiungi il tuo peso ideale, se anche raggiungi quella forma fisica che hai in mente, ma continui a vedere il tuo corpo come sbagliato, con dei difetti, se continui a percepirlo come un qualcosa che non va bene, se continui a criticare aspetti di lui, se continui a vivere negativamente alcuni aspetti del tuo fisico, continuerai comunque a stare male nella tua pelle. E qui arriviamo alla terza e ultima cosa che ho compreso da questa esperienza e cioè che per stare bene con me stessa non dovevo cambiare qualcosa che era fuori di me e quindi il mio corpo, ma qualcosa che era dentro di me. Perché solo ritrovando un benessere, un equilibrio interno, avrei poi potuto trovare anche un benessere e un equilibrio con il mio corpo esterno. Quindi per sentirti bene nel tuo corpo, sentirti felice di te e soddisfatta o soddisfatto di te, smetti di rincorrere un numero sulla bilancia e inizia a lavorare su te stessa o su te stesso. Inizia ad aumentare la tua autostima, inizia a lavorare sulla tua immagine corporea e per farlo ti condivido alcune indicazioni che puoi seguire fin da subito. L'immagine corporea è influenzata dalle credenze che abbiamo sul nostro corpo, credenze che si formano attraverso il confronto con l'ambiente esterno e con i messaggi che la società ci invia. Ma noi abbiamo sempre il potere di scegliere con quali messaggi nutrirci ogni giorno. Quindi seleziona in maniera accurata i profili social che segui, i siti web, le riviste che leggi, le trasmissioni che segui in televisione. Se ogni giorno ti confronti con immagini di uomini e donne non reali perché truccate, perché modificate da filtri, Photoshop eccetera, è ovvio che la tua visione della realtà sarà distorta e ogni volta, ogni giorno, percepirai il tuo corpo come sbagliato perché non aderente a quei canoni di bellezza. Inizia ad osservare i corpi delle persone vere che stanno intorno a te. Quando esci alla mattina da casa, inizia a guardare le persone che incontri nella tua vita di tutti i giorni. Osserva il loro corpo. Vedrai che i corpi delle persone sono diversi, ognuna con le sue caratteristiche, con le sue peculiarità, con la sua unicità. Esistono tanti corpi diversi e prenderne consapevolezza ti aiuterà a vedere anche il tuo come uno dei tanti corpi speciali che esistono nel mondo. La seconda indicazione che ti lascio è di fare attenzione alle parole che utilizzi per descrivere te stessa o te stesso e il tuo corpo. Nota quando esprimi una critica, un giudizio negativo sul tuo corpo. Quei giudizi non faranno altro che abbassare la tua autostima, non faranno altro che pensare che il tuo corpo non vada bene e debba essere cambiato. Quando ti accorgi che compare un pensiero di giudizio sull'estetica del tuo corpo, o addirittura quando esprimi delle parole pesanti di critica verso te e il tuo fisico, associa qualcosa di positivo del tuo corpo, qualcosa di cui essere grata o grato. Il tuo corpo fa tante cose ogni giorno per te. Se ad esempio ti compare il pensiero, le mie gambe sono grosse, aggiungi a questo pensiero un pensiero di gratitudine per le tue gambe. Però le mie gambe sono forti, energiche e mi permettono ogni giorno di correre, di camminare, di fare tutte le cose che desidero. Più arricchisci la tua quotidianità di pensieri e parole positive, di gratitudine verso il tuo corpo, più andrai a modificare quell'immagine corporea, a renderla più positiva e a ritrovare finalmente un benessere con il tuo fisico. Inizia fin da subito a mettere in pratica questi due semplici indicazioni e poi raccontami la tua esperienza qui sotto nei commenti, sarò davvero felice di leggerti. Se di questo video ti è stato utile, ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace qui sotto e se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nessuno dei video che arriverà. Io ti aspetto qui nel canale con altri video molto presto.